Soprattutto la novità essere arrivati alla quinta edizione qui a Napoli in campagna a fare un evento che comporta un grande impegno sia economico che dal punto di vista organizzativo, per noi è già un grosso traguardo quello che abbiamo raggiunto. Molte novità soprattutto per quello che riguarda la conferma di Veronica Maia alla conduzione della manifestazione, abbiamo confermato anche gli stessi ospiti che lo scorso anno ci hanno portato di fortuna che sono Stefano Callegaro, il vincitore di Masterchef Italia del 2015, Lara Sansone che aprirà al pubblico del San Nazaro il suo pubblico, chiaramente quello che è il suo prossimo spettacolo in programma che è il Café Chantano e poi abbiamo Anna Capasso che è la padrona di casa della manifestazione perché è l'ideatrice che proporrà anche un suo brano accompagnato al pianoforte. Abbiamo tantissimi ospiti, tantissimi premiati, quindi veramente personaggi di eccellenza, premio alla carriera a Carlo Croccolo, abbiamo per il teatro Sebastiano Somma, Massimiliano Carlo per il cinema, per quello che riguarda l'editoria abbiamo Paolo Migiano e Leandro Del Gaudio, veramente un bel po' di personaggi che non anticipo tutti anche perché aspettiamo il pubblico il 7 dicembre mercoledì prossimo al Teatro San Nazaro per assistere a questa quinta edizione.